Si è sentito male all'improvviso qui nella parcheggio di una chiesa a retina a salvargli la vita all'intervento provvidenziale di tre giovani ragazzi. Oggi sono contento e però ancora un po' provato. Alla parrocchia di San Marco Lassella un giorno di festa per famiglie e bambini per la fine dei campi solari quando all'improvviso un cinquantenne si è accasciato a terra colpito da infarto. All'improvviso abbiamo sentito un rumore abbastanza forte e subito urlare sia i bambini che una signora. Sangue freddo, coraggio ed altruismo i giovanissimi dello staff a scout hanno così prestato immediatamente soccorso. In particolare Alessandro quasi 17 anni che ha praticato prima il massaggio cardiaco e poi ha afferrato il defibrillatore. Tutto questo l'ho imparato a scuola. Sono tre anni che tutti gli anni facciamo il BLS. Quindi il massaggio cardiaco e tutto quello che lo precede dal chiamare l'ambulanza a quando lo portano via. In più quest'anno abbiamo introdotto nelle lezioni anche il defibrillatore didattico. All'arrivo dell'ambulanza con i medici del 118 il cuore del cinquantenne aveva già dato i primi segni di ripresa. Hanno detto anche i cardiologi che di solito se ne salva uno su cento e se si salva è grazie al defibrillatore e chi lo sa usare. Andrebbero tutti formati. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale, adesso fortunatamente sta bene, gli sarà applicato un pacemaker e poi sarà dimesso. Mi ha ringraziato, ha detto che sono un eroe ma sinceramente mi sento di aver fatto quello che andava fatto. Alla fine sono una persona come tutte le altre che si è ritrovato in questa situazione e ha salvato un'altra persona.